e ben a tutti ragazzi e ragazze io sono il vostro caro master king e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft come potete vedere siamo su una mappa più precisamente sulla mappa parkour e questi due sono i due gradori e questa è la mappa parkour da dover fare diciamo quindi diciamo che sarà per così dire abbastanza tosta farla questa diciamo bella lunga più però questa è una mappa 1.12 e dubito di riuscire a farlo in uno o in un episodio solo quindi molto probabilmente verranno almeno 4 barra 5 episodi se magari se non di più però comunque spero di di riuscire a farlo farla più velocemente possibile ah ok quello serve per il tempo ma io non voglio il tempo allora il primo livello è stato abbastanza semplice ora per fare il resto sperando non cadere di sotto ottimo e sicuramente tornare su questo gattus poi su quest'altro ok quindi control sarà il nostro amico insieme al tasto shift e questo è il penso che sia un checkpoint allora per poi dire andare avanti devo arrivare qui per poi saltare per arrivare lì invece devo ok devo fare questo salto almeno così credo sì ok devo andare di qua sicuramente e devo prendere bene il più possibile la mira però se mi scordo di premere il tasto shift sicuramente non ci riesco ok ci sono riuscito ora sicuramente andare di qua e da qui devo fare il un salto verso di là ottimo cosa che ci metterò veramente veramente tanto tempo per riuscirci il che potrebbe essere un problema ok questo sono riuscito a farlo no allora però bene o male ho capito in che modo funziona una mappa più o meno diciamo diciamo questo livello più che altro è quest'ultimo salto che mi fregherà però fino a un certo punto ok speravo di riuscirci però quanto pare no ok questo riuscirò a fare ok lì salto bene o male troppo presto quindi per quello che magari non arrivo comunque già al secondo livello essere perdere diciamo perdere tutto questo tempo già al ripeto al secondo livello non è la migliore delle cose ok ok ah qui devo arrivare ok qui penso forse ci riesco ad arrivare si ok diciamo anche il secondo livello ce l'abbiamo ce l'ho fatta ok questo non parte per la lava non è che mi sembra poi tantissimo difficile ok non devo andare di là sicuramente ma di qua e devo ricordare di prendere le distanze più precise possibile e soprattutto di saltare al momento giusto eppure questo sono riuscito a fare quello è l'ultimo ok qui ho visto la scala e sicuramente salirò magari mi fa saltare il livello per così dire no quanto pare no ora da qui ok ok anche questo riuscito a farlo allora ok e questo sarà l'ultimo per questo livello ok e siamo riusciti a superare ok questo sembrerebbe parecchio difficile come parecchio più difficile come livello volevo volare ok ok qui ci sono arrivato ok questo sarà abbastanza difficile come salto anzi invece no ci sono riuscito ora dubito che devo arrivare lì ok devo stare attento a non prendere quel sasso ok qui sicuramente posso fare questo tipo di lavoro ora di qua ok ok ci sono riuscito ora devo capire dove devo arrivare di là ok quindi devo salire verso l'alto e poi scendere di qua questo sembrerebbe essere ok riesco a fare ok pure questo non riuscito a farlo ah non mi aspettavo ah ok quel blocco diventa quello diventa blocco blocco quando mi avvicino ok checkpoint fatto il che è ottimo ok a quanto pare ci sono riuscito e ora si può andare in avanti ah ok 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 qui bene o male ci sto e no ok ora vediamo in che modo devo superare questo livello dubbio non riusci ad arrivare lì quindi penso toque